Ciao a tutti, oggi abbiamo un Asus, vi mostro il modello che è X55U, adesso lo colleggo con l'alimentatore e vi faccio vedere che schiacciando sul bottone non parte, non si accende nessuna lampadina, led, niente. E adesso cominciamo a smontarlo per trovare il problema. Allora, prima di tutto togliamo la batteria, che è scarica, forse non funziona neanche, non lo so perché non riesco a controllare. Smontando due viti, possiamo togliere questa la plastica che copre l'hard disk, scheda wireless, wifi, e c'è anche un posto per la memoria RAM. ecco, tirato l'hard disk, lo metto via, e andiamo avanti a togliere i cagli della scheda wireless, e svitiamo tutti i viti. attenzione che sembrano un po' diversi, non sono tutti uguali. attenzione che sembrano un po' diversi vecchi troppo nessun pulsaci, voce fra cerchò e mi ricordo, come Eggrian non sono tutti uguali, somere, come come eggadin,ole sono tutti uguali. Grazie. Guardiamo bene per svitare tutti i liti, sennò rompiamo qualcosa. Adesso proviamo di tirare via la tastiera. Ci sono i canci che dobbiamo sganciare, così si stacca tutto. Mettiamo la ghia. Stacchiamo altri cavini. Quello del touchpad, quello del bottone di accensione. Escriviamo altri cavi. E anche quello della garanzia. Ecco, solo adesso comincio a togliere due viti che tengono le cerniere. Faccio così per non rompere niente quando apro il coperchio. Grazie. 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 la plastica. Di sotto, piano piano, cerchiamo i punti dove si stacca, qui faccio il merito. L'ho un po' staccato e adesso provo dall'altra parte. Grazie. 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 Grazie a tutti. Ok, ancora qualcosa non mi lascia staccare, ecco, bisogna staccare anche il DVD. Ecco, così si scappa tutto. Togliamo via. Ok. 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 Adesso dobbiamo staccare altre cali. Ok. Ok. Facciamo il bel display, facciamo tutto piano piano senza correre. Adesso tiriamo via il cavo delle casse, molto piccoli e chimicali. Giro via il cavo della presa, anche con il cavo della alimentazione. Ok. Adesso tiriamo. La litte 1 mi sembra di rosso, che vengono la ventola e poi tutto. Tieniamo la ventola con la schiena. Mi sono colgati. Ancora una litte che tiene ferma la schiena madre. Eccoci, abbiamo tolto la schiena madre. Adesso praticamente possiamo tutto quello che vogliamo. O pulire la ventola, sostituire pasta termica e altro. Grazie a tutti. Abbiamo finito. Ciao.